con serino in occasione del primo allenamento del saluzzo calcio versione 2020 2021 allora finalmente si riparte si torna in campo abbiamo scelto te per rappresentare tutti i ragazzi che ritornano in campo ritornano a correre innanzitutto la prima domanda da atleta come si torna a giocare dopo sei mesi di fatto di inattività quali sono le sensazioni in campo al di là del caldo che oggi è evidente sicuramente non sarà come gli scorsi anni che abbiamo fatto due mesi di vacanza ma quest'anno ne sono passati già sei probabilmente quindi ci vorranno le prime settimane di riatletizzazione per rimettersi in quadro e poi dopo si potrà iniziare a spingere a preparare bene la prossima annata però sicuro non sarà facile come gli altri anni ma bisognerà essere concentrati e rischiare meno possibile di infortunarsi perché un po' il rischio può essere questo qua ecco l'altro anno eravamo qui anzi nel cappetto qua accanto e ti avevo intervistato se non sbaglio avevamo parlato delle prospettive della scorsa stagione ti saresti aspettato oggi a poco più di un anno in distanza di parlare di serie D? Allora sinceramente lo scorso anno arrivavamo da una stazione difficile perché ci eravamo salvati all'ultima giornata l'ambizione era tanta di far vedere che non eravamo quelli dell'anno scorso ma che valevamo molto di più e quindi la partenza era questo poi arrivare a fare quello che abbiamo fatto sicuramente era inaspettato un po' da tutti e un po' da tutti gli addetti al lavoro nessuno credo che all'inizio dell'anno avrebbe mai pensato a noi come possibili vincitori invece abbiamo fatto una cosa straordinaria e siamo riusciti a ottenere questo risultato inaspettato ma alla fine dell'anno per come sono andate le cose credo meritato anche per quello che abbiamo fatto vedere in campo è stato un gran risultato meritato. Ecco sul mercato la società ha puntato molto sui giovani al di là dell'arrivo di Sardo che chiaramente non è giovane ma serve per le esperienze che dà ha mantenuto però l'osso duro diciamo il blocco di giocatori esperti come te e come altri credi che possa essere la vostra continuità quindi l'assenza di squalifiche di stop eccetera a fare la differenza in questa stagione? Allora sicuramente il mantenere il fatto di mantenere uno zoccolo duro che ci portiamo avanti da tanti anni deve essere la forza di questa squadra qua io sono dell'idea che le squadre che cambiano il meno possibile e danno continuità fanno crescere l'osso della squadra poi arriveranno a dei risultati sicuramente. Un po' l'incognita può essere che ora tanti di noi è da un po' di anni che non fanno la categoria la serie D quindi sicuramente qualche difficoltà all'inizio ci potrà essere ma guardandomi attorno vedendo i miei compagni sono sicuro che non ne avremo perché le qualità sono tante e l'esperienza anche quindi anche nei momenti difficili sapremo tirarci fuori tutti insieme. Sicuramente gli acquisti che abbiamo fatto da Luca a Sardo ai giovani sono tutti di grande valore e ci daranno una mano sicuramente nella stagione per credo il nostro risultato finale sia salvarsi e mantenere la categoria sarebbe un super risultato. Ti chiedo un'ultima cosa visto che ne avevamo parlato anche diciamo fuori onda nei giorni passati ti sei guardato attorno hai visto le altre società soprattutto quelle qua accanto perché quest'anno non dimentichiamo ci saranno tre derby come hai visto il lavoro che hanno fatto? Allora sinceramente te lo dico proprio non ho guardato neanche tanto mi interessava di più la mia squadra che le squadre che attorno un po' perché non conosco cioè non ho mai seguito così tanto la serie D quindi non conosco i giocatori solo leggendo poi possono avere tante presenze ma poi quello che dimostrano in campo è altro quindi non mi preoccupa credo che noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare il meglio possibile e sicuramente faremo bene porteremo risultati a casa.